Mentre si parla di fusione fra i comuni di Corigliano e Rossano, una situazione che stava volgendo al meglio con l'approvazione della proposta di referendum, poi un rallentamento da parte del comune di Corigliano che ha fatto seguire poi polemiche, adesso c'è una nuova ombra allo spettro del commissariamento, ma è solo un'ipotesi per il momento. Sentiamo. Non ci sono conferme e del resto non possono esserci, perché la vicenda è molto ma molto delicata, ma i rumors in queste ultime ore si sono fatti più frequenti e intensi. Stiamo parlando del possibile ritorno, a distanza di sette anni, della commissione d'accesso al comune di Corigliano. A suggerire l'invio dei commissari nel municipio della città Ionica ci sarebbe una dettagliata relazione fatta dai carabinieri, nella quale evidentemente sarebbero riportate tutta una serie di ipotesi investigative che necessiterebbero di maggiori approfondimenti. In pratica si ipotizzerebbe, ancora una volta, rapporti, tutti da verificare, tra amministratori e ambienti poco limpidi della città. Il dossier sarebbe sul tavolo del prefetto di Cosenza, a cui spette il compito di valutare se dar corso a quanto prevede la legge in questi casi oppure no. Va aggiunto che proprio in questi giorni la città è attraversata da un forte dibattito interno legato al progetto di costruzione della città unica con Rossano, un procedimento che sembrava aver raggiunto uno stadio avanzato con l'approvazione della proposta di referendum e che invece, negli ultimi giorni, ha subito un nuovo rallentamento per i dubbi espressi dal sindaco di Corigliano che ha chiesto uno slittamento del quesito referendario.